Signore e signori, ecco, circolchiamo invece via Ponte Cagliardo, proprio nei pressi della provincia di Berlino, e andiamo a collegarci poi a via Mola che è Santa Maria, dove siamo stati poco fa. Vi facciamo vedere anche questa zona che si sta sviluppando piano piano. Grazie a tutti, grazie a tutti. Questa è tutta la zona di via Ponte Cagliardo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Facciamo vedere. Facciamo vedere in modo di poterla... Pino! Facciamo vedere in modo di poterla vedere con calma. Ponte Cagliardo. Questa è una zona residenziale all'interno, qui a Genuardo, a bassa sinistra. Ponte Cagliardo. Perciò arriviamo verso la FSPAC, la fabbrica che lavorava i pomodori. Ponte Cagliardo. Spesso, non è più che la FSPAC. Ma non è più che la FSPAC. Siamo arrivati a una fine. Ecco qua. Quella che era una volta la panca. Eccola qui, vedete, e come dicevamo prima, ci ricolleghiamo, abbiamo ora di Sanca Maria.